Ragazzi, ciao, ben ritrovati e forza Juventus. Oggi ovviamente avremo più impegni, ci vedremo a più orari e infatti questa sera gioca la Juventus, oggi è match day e quindi avremo la live reaction, ci vediamo su Twitch questa sera e ovviamente anche tutti i contenuti post partita. Non perdetevi neanche un appuntamento e a tal proposito iscrivetevi a questo canale YouTube perché tra meno di un mese festeggeremo i 10 anni dall'apertura di questo canale e dobbiamo ampliare la community. Un mi piace a questo video e un commento con le vostre sensazioni e probabili informazioni, alcune ipotesi di come poi Allegri potrebbe buttare in campo la Juve perché ci sono alcuni ballottaggi ancora non troppo chiariti però dobbiamo cercare di ragionare e vedere quelle che sono le potenziali possibili scelte di Allegri per la trasferta che non sarà per niente facile perché il Cagliari è una squadra che venderà sicuramente caro la pelle in terra sarda di questa sera. Intanto abbiamo un'ufficialità, per fortuna c'è un'ufficialità che corre in nostro soccorso all'interno di una seconda parte di stagione decisamente troppo brutta per essere vera e cioè ci sono ben 5 squadre italiane che si qualificheranno per la Champions 2024-2025, quindi la Super Champions sarà forte tinte italiane e dato che l'Atalanta ieri sera è passata in semifinale di Europa League avrebbe pure l'opportunità l'Atalanta di arrivare in Champions da sesta in campionato, quindi 6 squadre potenzialmente italiane in Champions. Io l'ho già detto tante volte, sono cose che lasciano un po' il tempo che trovano, la Champions ha 6 squadre o 5 squadre per una nazione, secondo me è troppo troppo troppo, però questo è. Tra l'altro il Milan è stato eliminato dalla Roma e quindi ci sono due squadre italiane in semifinale di Europa League e c'è anche la Fiorentina in semifinale di Conference con l'italiano che ha fatto un po' di roba a bordo campo, bacetti, bacini, vabbè queste sono cose extra campo, mi hanno fatto quantomeno sorridere. Attenzione però torniamo subito seri, c'è poco da sorridere perché il Cagliari nelle ultime 5 partite ha fatto molto bene, ora ho qui davanti lo score ufficiale del Cagliari e magari ve lo metto in sovraimpressione. L'ultima partita un 2-2 contro l'Inter a San Siro, quindi sicuramente il Cagliari che va a pareggiare a San Siro è una vera e propria impresa con gol di Viola che è stato una sorta di costante anche nella vittoria del Cagliari contro Atalanta, quindi sicuramente due prestazioni di super livello con ben 4 punti sui 6 disposizioni contro squadre che difficilmente lasciano dei punti per strada. Poi il Cagliari ha pareggiato sempre in casa contro l'Ellas Verona 1-1, la partita precedente aveva perso a Monza con gol di Maldini, figlio, e poi il Cagliari aveva vinto 4-2 con la Salernitana, la quinta partita in ordine cronologico partendo da Inter-Cagliari e quindi il Cagliari ha raccolto diciamo tanti bei punti, due vittorie, due pareggi, una sconfitta nelle ultime 5, significa che il loro score è di assoluto livello, stanno bene, sono una squadra che in questo momento si è tolta un pochettino dalla zona retrocessione, dalla zona calda, non è ancora uscita definitivamente, cerchiamo di non farli uscire noi, ecco. Alcuni dati corrono, non tanto di più di noi, perché comunque la Juve è una squadra che a livello di dati è l'intorno, però in media corrono leggermente più di noi. Ieri ho fatto un po' discutere la frase di Allegri sul dobbiamo metterci al loro livello e bla bla bla, boh ragazzi io gliel'ho sentita dire talmente tante volte che pensavo non facesse più notizia, invece ho visto tante persone scandalizzate da questa roba qua, Allegri ogni volta che gioca contro una squadra che secondo il suo punto di vista, o comunque anche oggettivamente, è una squadra di livello tecnico inferiore alla Juventus, dice bisogna mettersi al pari loro e poi tecnicamente verranno fuori i nostri valori, questo è sempre stato il suo modo di raccontare queste partite, non dico che sia giusto, non dico che sia sbagliato, dico che mi è sembrato assurdo sentire alcune persone che si sono indignate per questa roba qui, perché Allegri l'ha sempre detto, cioè non è una novità, non è una cosa che ha detto per la prima volta ieri e che deve far scalpore, una roba che lui pensa e mi sembra anche attua spesso e volentieri contro queste squadre qui. E' una delle squadre, il Cagliari, più imprecise di tutta la Serie A per passaggi e sicuramente all'interno di questa settimana, anche di Champions, dove la pulizia del passaggio, il gesto tecnico di come si calcia il pallone, di come si mantiene il possesso della palla, è stata forse una delle determinanti maggiori per regalare spettacolo in generale allo spettatore, ecco che ci troviamo dall'altra parte, un Cagliari che sicuramente non brilla per pulizia tecnica. Però è una squadra, e lo sappiamo molto bene, che cerca di fare una cosa sola durante la partita, e cioè palla in the box, i cross, i cari vecchi traversoni. Il Cagliari cerca sempre, spesso e volentieri, il colpo di testa, e quindi io mi immagino che oggi sarà una gara a stile partita che si fa solitamente contro Vincenzo Italiano. L'italiano è uno che spesso e volentieri prova a mettere il pallone dentro l'area di rigore per cercare il colpo di testa degli attaccanti, ecco che il Cagliari andrà a attuare questa stessa strategia con tanti recuperi palla per poi rimanere con il blocco basso, cercare di ripartire e buttare la palla al centro dell'area. Quindi mi immagino una Juve che sugli esterni non andrà ad aggredire particolarmente il Cagliari, che cercherà di difendere dentro l'area, conbremere i difensori centrali. Una partita già vista, un copione già visto. Io non sono particolarmente positivo, ottimista per la partita di oggi, non so se la Juve riuscirà a vincere, detto proprio fuori dai denti onestamente. Questa quinta squadra in Champions sicuramente aiuta, il vantaggio della prima parte della stagione sicuramente aiuta, però mi è sembrato evidente anche nella partita col Torino, ma banalmente anche nella partita con la Fiorentina che abbiamo vinto, che la Juventus non è uscita dalla crisi e non deve stare tranquilla, anche con l'Alastin Cup Italia vince 2-0, però alla fine esce fuori dopo un brutto primo tempo. La Juventus gioca a sprazzi soltanto a determinati momenti della partita, in cui mette fuori la testa e a volte potrebbe pure non bastare. Quindi non sono completamente convinto che la Juventus vincerà oggi, però sono abbastanza tranquillo per la qualificazione ai Champions, perché quelli dietro hanno iniziato un po' a rallentare, è anche vero che, attenzione, guardare il calendario per capire la difficoltà del calendario della Juve, martedì c'è appunto l'Alastio, semifinale di ritorno di Coppa Italia, poi dovremmo affrontare Milan, Roma e Bologna, quindi se poi inizia a perderne due o un paio di partite, o sbagliare un paio di partite, quelle dietro non rallentano, ecco che dalla situazione di tranquillità puoi passare alla situazione di meno tranquillità. Sono la seconda squadra in Serie A dopo il Milan per gol dalla panchina, ben 13, quindi su questa cosa non bisogna scherzare. Però quello che mi preme discutere insieme a voi è la probabile formazione della Juventus, perché intanto Scesni è partito per Cagliari, dovrebbe giocare lui, anche se c'è questo piccolo ballottaggio con Perino ancora aperto, credo che giocherà Scesni, se starà bene giocherà Scesni, ed è giusto così anche perché poi Perino martedì dovrebbe giocare in Coppa Italia con l'Alastio. C'è questo ballottaggio chiese a Ildis, e ieri vi dicevo, secondo me giocherà a Ildis, ma oggi tanti danno chiesa favorito, infatti sono stupito un po' da questa cosa qua, vediamo se cambierà effettivamente da qui alle formazioni ufficiali, però oggi, in questo istante, mentre registro, mattinata, chiesa sembra ancora il favorito davanti al fianco di Vlaovic. 3-5-2, confermato, con la Juventus che dovrebbe appunto schierare Danilo Bremeregatti in difesa, questi sono i tre titolari, ci mancherebbe altro. Locatelli, Rabiot e Cambiaso insieme a McKennie sono i confermati, e poi c'è un ballottaggio su un ruolo, su una casellina, ma in base a questo nome che verrà fuori dal ballottaggio capiremo dove collocarla. Perché infatti si gioca una maglia da titolare, Kostic, che solitamente è quello che parte titolare nella Juventus, largo a sinistra, Alcaraz, che potrebbe dirottare McKennie a destra e Cambiaso a sinistra, con Alcaraz che andrebbe a fare il centrocampista, la mezzala di destra al posto di McKennie. Attenzione, perché sono rimasto abbastanza stupito da questo nome, ma sono rimasto ancora più stupito dall'altro nome che Weha. Stessa roba, poi Cambiaso andrebbe a sinistra, McKennie farebbe la mezzala di destra e Weha largo a destra. Però sia Weha che Alcaraz non mi sembrano nomi per cui Allegri in questo momento sia proprio l'uomo più felice del mondo, no? Non mi sembrano giocatori per cui stravede Allegri, l'Allegri di questo momento temporale qua. Quindi sarei abbastanza sorpreso, questo è il termine corretto, di vedere titolare questi due giocatori, così come, ripeto, sarei sorpreso di vedere Chiesa per un discorso legato alle tante partite che ha giocato Chiesa di fila, legato anche al momento, un po' lo sfogo di Chiesa, legato al fatto che Ildis veramente non lo stiamo vedendo titolare da troppo tempo e questa cosa francamente fatico a comprendere. Però queste sono tutte le inside di oggi, queste sono tutte le preoccupazioni di questo Cagliari-Juventus, non lo so, forse sono negativo io, però la Juve è ancora ben lontana dall'essere nuovamente una squadra serena e tranquilla. D'altra parte c'è un Cagliari che è oggettivamente in forma nelle ultime gare e che forse ora è anche un po' più libero mentalmente. La Juve può tenare un sospiro di sollievo con la quinta qualificata e con le altre che hanno un po' rallentato, però ribadisco, poi ci sono degli scontri diretti, il campionato è quasi finito, manca poco più di un mese, cerchiamo di stringere i denti e portare a casa questi ultimi punti, cerchiamo di portarci a casa e magari vincere una finale di Coppa Italia, perché inizia veramente a essere stancante, se no.